che è un nuovo presidente, buonasera presidente, ovvero Andrea Bertozzi che è qua con noi e qua con noi così ci racconti anche quello che tieni in mano, che cos'è esattamente, perché non credo che tutti lo sappiano. Partiamo dal museo, il progetto del museo bianconero e l'associazione che avete costituito diciamo, raccontaci. Fondamente il tutto parte nel 2009 con il mio incontro e con mio e insieme a Matteo Fanesi, siamo collezionisti di maglie e ci conosciamo. Poi in occasione di una mostra del coordinamento nel 2011-2012 facciamo questa mostra e per la prima volta vediamo tutti i cimeli messi assieme e da lì capiamo che bisogna continuare, bisogna cercare di dare continuità a questo sodalizio. Negli anni abbiamo fatto vari eventi, eventini, abbiamo disegnato anche una maglia. Una splendida maglia che tra l'altro abbiamo presentato anche qua. Siamo venuti qua. Prima della partita contro il Castelfidardo, splendida. Esatto, poi ricavata in dati beneficenza, quindi insomma oltre a una passione abbiamo anche avuto la possibilità di fare del bene. Poi la grande stersata è stata recentemente quando abbiamo incontrato Davide Veglia che è uno dei soci all'interno della società che è diventato il nostro mecenato, prima di tutto sponsor, ma dire che è uno sponsor è riduttivo perché Davide è un fiume in piena, ci ha dato tante motivazioni, ci ha dato tante idee e ci segue ci segue in tutto e per tutto e alla fine ormai sono due o tre anni che collaboriamo e ci supporto e è diventato anche un carissimo amico. Questo progetto è riuscito anche ad andare avanti soprattutto grazie anche al supporto della società che ci ha supportato con eventi che abbiamo fatto in Clubhouse e c'è un rapporto ottimo e fondamentalmente noi vorremmo riuscire a ripetere quello che è successo in altre piazze un po' come ad esempio a Parma o a Palermo, a Terni dove c'è un museo che è fatto insieme tra società e tifosi proprio per preservare quella che è la memoria collettiva attorno agli oggetti del Cesena. A proposito di memoria collettiva, in mano e di oggetti soprattutto perché ovviamente il top sono le maglie ci mancherebbe altro, collezionisti, tu e Matteo, ma ce ne sono tanti altri ci sono però anche cimeli. Di cosa si tratta? Falla vedere bene che così poi il nostro cip la pesca. Una coppa che abbiamo trovato e che era fortemente ammalorata nel senso che la parte superiore aveva insomma tante patine, il basamento stava per scomparire per colpa delle tarme siamo riusciti a prelevarla e insomma a tenerla a disposizione per il progetto l'abbiamo fatta restaurare e stasera è splendida di una nuova vita e secondo me questo tipo di oggetto sta un po' a significare quello che è il fine del museo, dell'associazione, nel senso preservare oggetti dandogli una nuova vita anche per far conoscere un po' la storia ai nuovi tifosi e portare avanti quello che è la memoria storica che è attorno alla storia del Cavallù. Questa del 52-53 è purtroppo una coppa del secondo posto però insomma è lo giatto più antico che abbiamo e insomma li vogliamo un tanto bene ecco. Certo, poi le coppe l'anno scorso vi siete divertiti ad alzarne e non erano quelle del secondo posto tra l'altro. Quella era l'ultima e la prima. L'anno scorso le ultime la prima è stata questa. Esatto, poi magari prima ce ne sono state altre che forse saranno in qualche cantina Diciamo il reperto più stagionato diciamo così. Questo sì, poi dopo negli anni abbiamo collezionato varie maglie di vari campioni e soprattutto la cosa fondamentale è che in questi anni abbiamo avuto più inerzia quindi molta altra gente ci ha supportato e quindi ci sono uniti altri collezionisti di altri oggetti che noi non sapevamo neanche l'esistenza e quindi oltre al discorso del museo fisico quello che vogliamo fare, che stiamo lavorando alla Crementi in questo momento, è anche un sito enciclopedico dove tutti gli oggetti poi effettivamente saranno caricati lì e saranno a disposizione dei tifosi del Cesena ma anche di tutti i tifosi. Parlavamo di maglie speciali, Magdeburgo non è lontanissima cioè ai 50 anni naturalmente come ricorrenza, lì magari si potrebbe studiare qualcosa Sì, volentieri, nel senso che si potrebbe creare una maglia d'occa So che voi ve ne intendete Sì 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 assolutamente, sarebbe bello rivederli senza sponsor Che vedo che ormai va tanto di moda evocare Sì un po' la Cremonesa ha fatto una maglia bellissima Ha fatto una maglia incredibile, il primo grigio rosso in Siena straordinaria tra l'altro proprio dello stesso sponsor tecnico del Cesena che da questo punto di vista lavora molto bene Lanciamo, lanciamo il... Noi cantiamo sempre, torneremo Magdeburgo come nel 76 Sarebbe bello visto che manca poco Noi lo cantiamo Tornarci per i 50 anni proprio con una maglia celebrativa Lanciamo l'appello, poi vediamo se verrà raccolto o meno Allora, teniamo lì le domande Anche le domande Grazie a voi Sì c'è un paio di Lì le domande